Ciao a tutti! Da domani, 28 agosto 2024, sarà necessario risintonizzare il vostro televisore perché Rai effettuerà il passaggio di alcuni suoi canali al Digitale Terrestre 2. Nello specifico, da domani sarà necessario risintonizzare il televisore per vedere canali come Rai Premium HD, Rai Story HD, Rai School HD e Rai Radio 2 Visual. Inoltre, se in precedenza avevate problemi nella ricezione dei canali principali, quindi Rai 1, 2 e 3, magari perché avete un impianto di antenna particolarmente vecchio e non manutenuto, magari perché c'è un'interferenza nella vostra zona, da domani potrete vederli sul 501, 502 e 503, dove la ricezione dovrebbe essere migliore. Per fare la risintonizzazione dovrete accertarvi di avere un televisore o un decoder compatibile con il Digitale Terrestre 2. Diciamo che dal 2017 tutti i televisori e decoder sono compatibili con questo standard, però è giusto dare un'occhiata, magari avete dei televisori un po' più vecchi, quindi potrebbe essere necessario il decoder. Effettuare la risintonizzazione del televisore è abbastanza semplice, vario un po' da produttore a produttore del televisore, ma in linea generale basta andare su impostazioni, poi su sintonia o canali e effettuare una ricerca automatica dei canali. Alla fine della ricerca dei canali, visto che adesso ci sono anche molti canali in HD, avrete l'opportunità di scegliere se vedere il canale in HD oppure il canale in definizione standard. Ovviamente avendo la possibilità scegliete quelli in HD così avrete una qualità d'immagine migliore e godrete dei vantaggi di questo passaggio al Digitale Terrestre 2. Buona risintonizzazione a tutti!